Raramente i giocatori europei hanno qualcosa di esotico, più spesso rappresentano la sostanza, la forza del gruppo, anche il loro modo di esultare in genere è più misurato, quasi fossero distaccati e invece sono solamente consapevoli di quello che rappresentano, qualcosa di diverso e qualcosa di uguale nello stesso tempo. C'è un mucchio in area di rigore, pallone allontanato, arriva Inz col destro e segna un gol bellissimo, Paul Inz tutta la sua gioia. Grazie a tutti. Premi, avanza Breme, non sa dove andare, poi calcia e trova l'angolino, Andreas Breme con un siluro mancino. Hansi Miller si incunea nella difesa, rosso nero e sorprende il portiere con un perfetto interno destro. Gran gol, grande azione di Hansi Miller. pallone per Bergkamp che si coordina e sforbiciata e segna un gol pazzesco. punizione per l'Inter dai 20 metri, la rincorsa di Matteus, una folgore, gran gol di Matteus, direttamente su calcio di punizione. Spinge l'Inter al centro, due giocatori. giocatori dell'Inter completamente soli e poi Giorcaef inventa un gol incredibile. C'erano due giocatori dell'Inter completamente soli all'interno dell'area di rigore. Giorcaef ha sorpreso il portiere con un pallonetto perfetto. L'Ajax è l'ostacolo che separa l'Inter dai quarti di Champions League. Trafigge i lancieri di Amsterdam il destro micidiale di Dejan Stankovic. L'Inter è in vantaggio strameritato al dodicesimo del secondo tempo. Dejan Stankovic ha portato in vantaggio Linder. L'Ascoli sta imbrigliando l'Inter, chiudendo tutti gli spazi. Tutta tedesca, l'azione del gol partita. Sulla punizione di Matteus, arpiona un pallone impossibile, Jürgen Klinsmann. Arriva il cross dentro, prova ad arrivare Klinsmann in spaccata, in estirata. Gol dell'1-0. Piro tecnico derby della Madonnina. L'Inter, in vantaggio per 2-0, passa ancora con un contropiede micidiale. Sul suggerimento di Stankovic, il gioco di prestigio di Ibra Cadabra. L'azione in contropiede, andiamo in 3-1, in 3-1. Ibra, in tre in area, può andare al tiro. È gol, 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 è gol. Ingenio, 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 è 3-0, è 3-0, è 3-0, è 3-0. Ibra Imovic, 3-0. Ingenio, 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 In